Il Centro Storico di Umbertide è stato il palcoscenico di una spettacolare manifestazione, il Gran Premio di Macchine a Pedali, fratta a Grand Prix, che ha concluso la sua seconda edizione con un trionfo di entusiasmo e competitività che ha coinvolto l'intera città. L'evento, patrocinato dal Comune, ha visto Piazza Matteotti stracolma di persone e un centro storico in grande festa. La corsa è stata organizzata dall'Associazione Don Quixote ed ha attirato partecipanti e spettatori da tutto il territorio, trasformando le piazze, le strade e i veicoli del capoluogo in un vivace circuito di gara. I piloti, con le loro 11 macchine a pedali, frutto di creatività e ingegno, si sono sfidati, mettendo alla prova destrezza e resistenza. Il percorso, con partenza ed arrivo in Piazza Matteotti, si è articolato nel seguente modo. Piazza 25 Aprile, Via Cibo, Via Grilli, Via Guardabassi, parte di Via Vittorio Veneto, Via Bovicelli, Piazza Trocascio, Piazza Matteotti, con sede di Pistop, Via Guidalotti, per ritornare ancora in Piazza Matteotti. Questa è la classifica finale del podio. Primo posto conquistato da McCorse, che si aggiudica la vittoria del trofeo. Secondo posto per Spida Racing Team e terzo per Tiberina Racing Team. Il successo della seconda edizione del Gran Premio di Macchine a Pedali è una testimonianza della passione e della determinazione della comunità di Umbertide per promuovere uno stile di vita sano, sostenibile e divertente.